La situazione atmosferica sta subendo delle variazioni nelle ultime ore, in particolare nella zona settentrionale del paese, dove è previsto un abbassamento delle temperature. L'ultimo bollettino meteo ha, però, rivisto la previsione sulla data di arrivo delle condizioni più tipiche dell'autunno. Osservando la cartografia qui presentata, si nota una netta divisione nell'Europa. Mentre al nord e parte dell'Europa centro-occidentale si stanno manifestando depressioni atmosferiche, con condizioni meteorologiche instabili e fresche, più a sud, inclusa la nostra nazione, un anticiclone di origine subsahariana sta portando temperature più elevate, tipiche della stagione estiva. Il flusso fresco proveniente dal nord-atlantico sta tuttavia muovendosi verso sud. Nei prossimi giorni questo metterà parzialmente in discussione la presenza dell'anticiclone africano, specialmente al centro-nord, con una diminuzione delle temperature dovuta principalmente alle precipitazioni e alle attività temporalesche previste. Mercoledì 13 settembre si percepirà una flessione delle temperature, specialmente nelle zone settentrionali come l'area alpina, prealpina e le regioni della Valle Padana Alta. Questi luoghi saranno tra i più influenzati dalle variazioni climatiche. Da giovedì 14 e per i giorni successivi, un progressivo calo termico sarà riscontrabile non solo al nord, ma anche in molte zone del centro. Consultando la mappa in basso, vedrete le temperature massime previste per venerdì 15 settembre. L'estremo sud del paese continuerà a sperimentare temperature più elevate, mentre le altre zone si assesteranno su valori attorno ai 20, al massimo 22 gradi, con picchi che potrebbero toccare i 24-26 gradi. Nonostante questo cambiamento, l'arrivo effettivo dell'autunno sul nostro territorio sembra ancora lontano. Infatti, domenica è prevista una nuova ondata di calore proveniente dall'Africa. La previsione sull'inizio ufficiale dell'autunno è stata quindi posticipata a venerdì 22 settembre. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche. Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perderti le prossime notizie sul meteo.